Ciao ragazzi, nuovo Anime News! Proprio oggi sono arrivate delle piccole bombe e quindi andiamo subito a vedere che cosa è stato annunciato. La tanto attesa seconda stagione di Tokyo Revengers è finalmente stata confermata per il 2023. La serie arriverà a gennaio 2023 e sarà prodotta purtroppo dallo stesso studio di produzione, Liden Films, e anche probabilmente lo staff, la produzione, sarà composta dallo stesso team. Cosa significa questo? Che se vi aspettavate un miglioramento tecnico rispetto alla prima stagione, purtroppo non sarà così, almeno secondo me. Questa seconda stagione ha un nome specifico e cioè Tokyo Revengers Christmas Showdown. Ma non finisce qui perché è stato rilasciato anche un piccolo teaser trailer che andiamo subito a vedere insieme. Tokyo Revengers... la musichetta quella figa che però hanno messo un po' troppe volte all'interno della serie. Ok, è una presentazione dei personaggi, niente di più. Vorrei ascoltare la nuova voce di Draken perché... perché cambia, è cambiata per un motivo di cui abbiamo parlato tempo fa. Vediamo se c'è. Chifuyu, tanta roba. Baci? Non parlo però, non so perché. Ok, sì, si vede che è un po' cambiata, però è bravo il doppiatore. Si nota davvero poco. Gennaio 2023. Una piccola key visual questa è. Riguardo il doppiatore di Draken, per chi non lo sapesse, è cambiato perché quello precedente ha avuto dei problemi a livello legale. Però non mi addentro nei dettagli perché ne parliamo già tempo fa e comunque non è che ci interessi molto. Come vedete i giapponesi riescono a cambiare le voci senza farlo notare più di tanto perché fecero la stessa cosa anche con Erina di Food Wars. Vabbè, comunque io non mi aspetto molto da questa seconda stagione, non solo perché a livello tecnico purtroppo la prima non mi piaceva e sicuramente questa sarà simile, ma anche perché chi ha letto il manga mi ha detto che a parte qualcosina poi andrà più che altro a calare. Ma chi lo sa, fin quando non la guarderò non potrò dirlo. Ma togliendo un attimo di mezzo Tokyo Revengers, un'altra bomba arrivata oggi riguarda My Hero Academia 6. Infatti è stato appena rilasciato un nuovo trailer. Vi ricordo che questa tanto attesa nuova stagione arriverà ad ottobre. Ha detto tipo, sta per iniziare qualcosa di bello. La vera guerra, dai! Bella la musica. Qualità sempre quella buona di My Hero Academia, così sembra. Bisognerà vedere gli scontri qua perché vi aspetto tanta roba. Ebbè. Bello. Attira, attira. E la Madonna? Devo dire che mi ha messo un po' di hype. Un trailer davvero ben riuscito secondo me perché un po' brevini mi sono venuti. E da quello che vedo sembra quasi che Deco non abbia un ruolo centrale, ma sia proprio una guerra che coinvolgerà tutti quanti. Vabbè, questo lo sapevamo, però in cui forse daranno più spazio agli altri che a lui. Forse lui soltanto nel finale, non lo so. Però va bene così. Speriamo semplicemente che sia bella appassionante, avvincente e con tanti colpi di scena interessanti. Lo spero davvero tanto perché a me la quinta stagione aveva deluso abbastanza. Non perché fosse particolarmente brutta rispetto alle altre, ma perché l'ho trovata davvero sotto tono. Non tanto in qualità tecnica che più o meno è sempre quella, in My Hero Academia sempre buona, ma semplicemente perché la storia è stata abbastanza moscia. Ci sono stati pochi eventi interessanti rispetto alle altre stagioni e, insomma, in generale mi è piaciuta meno. Però da questa nuova stagione sembra che le cose si faranno di nuovo molto interessanti. L'ultimo episodio della terza stagione di Kawuyasama, che arriverà il 24 giugno, avrà una durata di circa 60 minuti. O meglio, in Giappone durerà 60 minuti, ma perché in Giappone ci sono tanti spot pubblicitari che interrompono l'episodio, quindi in realtà qui secondo me si tratterà semplicemente di un episodio doppio, di circa 40-45 minuti. Che comunque è una bella notizia. In realtà semplicemente da quanto si è capito hanno deciso di incorporare l'episodio 12 e il 13. È uscito anche un trailer di questo ultimo episodio che vi lascio qua sotto in descrizione. E per chi mi chiede, ma allora questa sarà l'ultima stagione, visto più o meno come sta andando l'anime che sembra sia per chiudersi? Beh, la risposta sarà sicuramente no, perché in realtà il manga va molto più avanti. È vero che per chi non ha letto il manga come me sembra quasi che tutti i nodi stiano venendo al pettine, però credo che succederà qualcosa che farà sì che alla fine si riapra un po' il tutto. Ma meglio così perché Kawuyasama non mi stanca mai. Il 10 luglio uscirà l'episodio speciale di Dr. Stone chiamato Dr. Stone Ryusui Special. Episodio che presenterà questo nuovo personaggio che a quanto pare avrà un ruolo molto importante nella terza stagione. E che durerà fra l'altro la bellezza di un'ora. Quella che vedete è l'immagine promozionale e vi lascio qua sotto anche il trailer. Vi ricordate per caso del nuovo film live action di One Punch Man che era stato annunciato diversi anni fa insieme a quello di Attack on Titan, però non fatto dai giapponesi bensì da Hollywood? Ebbene abbiamo una novità, e cioè che il film live action di One Punch Man hollywoodiano verrà realizzato dallo stesso regista di Fast and Furious. Allora, sinceramente io vorrei vedere il prima possibile, sia quello di Attack on Titan che questo, almeno un trailer, per capire che cavolo stanno facendo. Perché io non mi aspetto niente di bello, sincero. Cioè io non riesco a credere che diventerà davvero un live action hollywoodiano fatto dagli americani. Cioè io ho brutti ricordi per Death Note Netflix, Dragon Ball Evolution, tanti brutti ricordi. Quindi voglio capire, voglio capire che cosa hanno intenzione di fare, se stravolgere completamente la storia e renderla un po' più cinematografica, oppure se veramente fare una cosa semifedele, ma mi sembrerebbe ridicola per come potrebbero farla. Quindi, quindi chi lo sa? Almeno svelarci qualche immagine, qualche data. Questi non ci dicono niente, arrivano notizie così a caso. Gli è il regista che il film si è in produzione, ma non si vede mai niente. Trigan Stampede, è stato annunciato un remake del vecchio anime di Trigan. Forse non tutti voi lo conoscono, ma sinceramente io l'ho visto e me ne ero abbastanza innamorato, quindi sono felicissimo di sapere che avrà una nuova storia. La produzione è affidata a Studio Orange e quella che vedete adesso è l'immagine che è stata rilasciata. Sappiamo già che sarà una serie distribuita da Crunchyroll nel 2023, quindi non vedo l'ora di vedere un trailer. Che forse potrebbe arrivare il 2 luglio, quando inizierà l'Anime Expo. E a proposito di Anime Expo, per quella data e anche nei giorni successivi, il 3 e il 4 luglio, si pensa che arriveranno tanti trailer e tante notizie interessanti. Come ad esempio un nuovo trailer dell'anime di Bleach che arriverà ad ottobre, ma anche un nuovo trailer di Chainsaw Man. O alcuni parlano anche di un possibile ritorno di Dragon Ball Super. Quindi, insomma, questo evento sarà sicuramente molto interessante da seguire. Speriamo non ci deluda. Dovremmo quindi avere tanti annunci dal 1 al 4 luglio. E sì, ovviamente farò anche dei video aggiornamento qua su YouTube. Qualche minuto dopo l'uscita dello scorso Anime News, era arrivata un'altra bomba di cui purtroppo non vi ho potuto parlare. E cioè l'anime di Oshinoko, che finalmente diventa realtà. È stato annunciato, sono contentissimo perché ho letto il primo volume del manga, poco più del primo, anche un po' del secondo che devo finire di leggere. Mi è bastato, mi è bastato per capire quanto sia incredibile. Quindi sono super contento. Sappiamo anche che il character design verrà realizzato dalla stessa persona che ha fatto quello di Rent a Girlfriend, che già è tanta roba. E che lo studio sarà Doga Cobbo. Nulla di incredibile, però lo staff sembra sia niente male. Quindi sì, aspettiamo qualche nuova informazione. Non sappiamo altro, a parte l'immagine promozionale, che è veramente molto bella. Quindi, ragazzi, tanta roba. Detto questo, spero che le news di oggi vi siano piaciute. Fate vedere un po' cosa ne pensate, lasciate un piacere piaciuto, trovate i social nel prossimo video.